Il presidente CNA Macerata, Maurizio Tritarelli, commenta quanto emerso dai dati Istat sull'occupazione elaborati dal Centro Studi della Confederazione. A gennaio avevamo lanciato l'allarme sul calo nel 2021 del numero delle imprese avvenuto solo nella nostra provincia. L'anno scorso a Macerata abbiamo perso 394 imprese, mentre a Pesaro erano salite di 146 unità e ad Ancona di 135. Non ci sorprende più di tanto quindi che la sola maglia nera marchigiana per quanto riguarda l'occupazione sia maceratese. Le difficoltà delle imprese, prosegue Tritarelli, hanno sempre conseguenze sui dati dell'occupazione e la crisi pandemica iniziata nel 2020 non ha fatto eccezione. Dopo l'anno orribile però per le marche nel suo complesso tutti i trend sono stati in risalita con l'unica eccezione della nostra provincia. Dai dati Istat risulta infatti che gli occupanti marchigiani nel 2021 sono aumentati di 4.745 unità, passando da 611.817 a 616.562. Il dato è ancora molto distante dai 632.492 occupati del 2019 in epoca prepandemica, commenta il presidente CNA, ma se per la regione nel suo complesso il bicchiere può dirsi mezzo pieno, per la provincia di Macerata è sicuramente tutto vuoto. Dei 15.930 lavoratori marchigiani che hanno perso il posto di lavoro a causa del covid e non lo hanno ancora ritrovato, la maggior parte sono maceratesi.